Ho venuto da dire Ciao ragazzi sono Alexi e adesso non siamo tornati con questo nuovo video Oggi vi porto una Camstrike presa in gruppo da 5 e non in Spawn Trap Perché abbiamo iniziato la partita con l'intento di fare Spawn Trap Però Jova Dead, un mio amico, è dovuto andare appena in inizio della partita Quindi ci siamo detti, vai siamo in 5 Tanto vale giocare normale, che magari esce qualcosa lo stesso Tanto siamo in tanti con supporto E in effetti è uscito qualcosa di buono Infatti è uscita una cam in poco più di 2 minuti Mi pare 2 minuti e 20, lasciata per tutta la mappa Quindi spero che gli possa piacere Nonostante la mappa sia sempre Strikezone Anche se ho variato un po' questi giorni Però comunque, vi ripeto, la mappa in cui escono gameplay del genere È sempre questa, quindi mi dispiace Ma escono particolarmente su questa mappa Quindi non ci posso fare niente E comunque, volevo dirvi innanzitutto Che mi scuso per l'inattività che ho avuto un po' in questi giorni Ho saltato mi pare un video Se diciamo che l'intento di quando ho aperto il canale È caricare un video al giorno Però in questo periodo, ragazzi, sto avendo un sacco di compiti Interrogazioni e tutto fare Insomma, perché c'è stata pure la settimana bianca E io non essendoci andato I professori non potevano né spiegare Né ripassare Non chiedetemi perché Ma me l'hanno detto che non potevano neanche ripassare E quindi ogni giorno era un'interrogazione E la settimana prima Erano tutti i giorni una verifica Per quelli che andavano via in settimana bianca E questa settimana Non interrogano quelli che sono andati in settimana bianca Ma bensì si ricomincia con una settimana di verifica Quindi potete ben capire Perché c'ho un sacco di cose da fare E poi volevo rispondere a alcuni Che magari mi dicono Ma scusa, ma te c'è sempre un sacco di cose da fare con la scuola Ma non fai nient'altro Sì, faccio qualcos'altro Però comunque Essendo una seconda liceo scientifico E essendo in questo periodo Che non è diciamo dei migliori dell'anno Ho tante cose da fare E quindi mi tengono molto impegnato E un'altra motivazione per cui Non ho fatto video Cioè, no, perché non ho fatto video Ricollegandoci a questo Mentre giocavo Fra l'altro non provavo neanche tantissimi gameplay Cioè, li provavo perché Devo fare qualcosa per il clan Perché mi dispiace non fare niente E mi sento inutile Però nel frattempo Come avete visto nello scorso video Mi allenavo anche un po' con il mio team Che mi sta veramente piacendo molto Il competitive su Ghost E vi prego di dirmi ragazzi Io vi faccio sempre tante domande durante i commenti Ma non mi rispondete quasi mai E vi prego di dirmi se vi piacciono ragazzi I video di competitive Perché non lo so Non me l'avete detto E ho visto che non ha riscontrato tantissimo successo Insomma, ditemi se magari non è perché è uscito nelle feed O perché proprio non li volete vedere Almeno io provvederò a sistemare la mia agenda Diciamo di caricamento video Ecco Comunque ragazzi Io qua ho già sforato anche abbastanza Spero che il gameplay vi sia piaciuto Soprattutto perché è molto veloce Almeno non vi ho rubato troppo tempo E niente Se è così fatemelo sapere nei commenti Iscrivetevi anche se vi piacciono i video di competitive Che magari proverò a proporvene altri E ragazzi ho finito Ciao a tutti